Voi pensate subito alla violenza fisica. Poi cosa pensate che c'è? Quella psicologica. Ok. Come la riferiamo? In che senso? Proviamo a pensare. Quando parliamo di violenza, noi abbiamo sempre tanti bei passaggi. Violenza fisica, violenza sessuale, queste sono riferitabili. Ma quando parliamo di violenza psicologica, come lo riferitiamo? Dal punto di vista clinico e psicologico, facendo una valutazione. Facendo una valutazione, però la valutazione molte volte purtroppo parliamo di psicologia e non è così facile mettere agli atti una documentazione di questo tipo. Testimoni? Testimoni, utili, utilissimi. Ma solitamente ci sentiamo sempre dire molte volte, come vedete un po' anche nei comunicazioni, nei telegiornali, no ma è un bravo uomo. Molte volte purtroppo questa società fa passare una donna che subisce violenza psicologica non come una vittima, ma come una pazza che si inventa le situazioni. Grazie a tutti.